Nell'ambito delle celebrazioni relative al 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, la nostra fondazione si è molto mossa per approfondire i temi legati al sommo poeta. Proponiamo un prossimo grande weekend dedicato a tutta una serie di iniziative culturali che vedranno impegnato il Palazzo Storico del Creto Bergamasco in una serie di eventi costituiti da due mostre, una al piano superiore Rino Ferrari Inferi, in Sala Consiglio avremo cartoline dall'Inferno di Ugo Riva, due grandi artisti che si confrontano sull'Inferno di Dante. Il salone principale della banca diventerà una sorta di luogo teatrale. Nel corso dell'intero weekend avremo letture di canti di Dante dedicati all'Inferno, due rappresentazioni teatrali, concerti con musica di bacca, insomma un ambiente nel quale approfondire per due intere giornate il grande messaggio di Dante, la cultura italiana, la nostra lingua, il nostro pensiero e il nostro essere italiani. Interessante il coinvolgimento delle scuole. Le visite guidate alla parte artistica saranno tenute dagli studenti del liceo Vescovile Sant'Alessandro, mentre saranno possibili letture da parte delle scuole. Alle 12.30 del sabato studenti del liceo Lussana leggeranno numerosi brani dell'Inferno.